Nairobi, Kenya. Nelle baraccopoli i diritti delle bambine vengono violati. Ogni giorno. Violenze di genere, abusi sessuali, discriminazioni, gravidanze precoci. Per queste bambine il futuro non esiste più. Tu puoi cambiare tutto questo. 50 bambine che assistiamo hanno urgente bisogno di essere adottate a distanza. Vai su alice4children.it. Diventa genitore a distanza per dare un futuro a una bambina.